Papà! E se proprio vi aiuta, Varteri. Stai a diventare grande. Alla mano però ti tremava, eh? Solo un po'. È bello, eh? È il posto più figo del mondo. E lo sai come ha fatto il corsaro a piazza di tutto questo? No. Con la paura... Più fai paura all'altri... E più in alto arrivi. E perché se non c'hai paura di nessuno, poi sei l'altri che hanno paura di te. Questa è l'unica regola che conta. E tu che hai provato... Essai una scuola. E tu che hai provato... E tu che hai provato... E tu che hai provato... E tu che hai provato...